In primo piano nel TGL News di lunedì 11 dicembre ancora il maltempo, ieri è arrivata la neve su tutta la nostra provincia, dalla città alle colline alle montagne, oggi niente neve ma gelo e il cosiddetto pericolo per il gelicidio. Attenzione soprattutto alle auto perché le strade naturalmente con il ghiaccio sono pericolose e infatti si sono verificati tanto nella giornata di ieri quanto in quella di oggi alcuni importanti incidenti, fortunatamente nessun ferito grave. Tra l'altro in montagna si stanno cercando persone volontari per ripulire molte strade non tanto dalla neve quanto piuttosto dai rami, dagli alberi, dai tronchi che si trovano in mezzo alla strada proprio perché portati lì dalla nevicata che ha fatto appunto cadere molti rami. Parliamo poi dell'incendio che si è sviluppato a Fellino di Travo, le fiamme hanno divorato 300 quintali di legna e hanno sfiorato l'abitazione. Minuti davvero di grande paura non solamente per i residenti della zona, sono intervenuti i pompieri, i vigili del fuoco che sono riusciti non senza fatica a domare questo incendio. E poi c'è una notizia che arriva dall'Alta Valtrebbia, a parte un colpo accidentale, tragedia sfiorata durante la caccia, un cacciatore durante una battuta è rimasto ferito. Tutti i dettagli sul nostro sito liberta.it Parliamo poi di sport, come sempre ogni lunedì è una giornata molto ricca. Questa sera alle 20.20 torna zona calcio, si parlerà della vittoria del pro Piacenza di ieri in terra sarda ad Arzachena e poi ci sarà anche la presentazione della partita di questa sera del Piacenza che al Garilli sfida il Siena, naturalmente maltempo permettendo in palio pesantissimi punti playoff. Ieri è stata una giornata positiva anche per la Wix LPR Volley che ha battuto Monza. Chiudiamo con un momento molto atteso da tante famiglie perché è gran finale perché classe sul nostro sito e sul quotidiano Libertà l'elenco dei vincitori del gioco che aveva come protagonisti le classi degli istituti piacentini. Grazie. 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 Grazie.